Si inizia bene la settimana, vittoria contro il San Buceto, più otto in classifica sul Giulianova. Sì, al di là del più otto che siamo contenti, è inutile nasconderlo, però sono contento da prestazioni dei ragazzi, del risultato che hanno portato a casa contro una buona squadra. Oggi è stata una partita intelligente. Per la prima volta abbiamo dato il pallino del gioco alla squadra avversaria, l'abbiamo fatti giocare, soprattutto nel secondo tempo abbiamo sfruttato poi le occasioni che ci sono capitate nel campo largo, con i giocatori di qualità che abbiamo noi. Nel primo tempo forse potremmo essere un po' più cinici perché abbiamo creato tanto, però di fronte, come ho detto prima, avevamo una buona squadra. Al di là dei rigori moderni, così li ha chiamati Delzotti. Il Teramo, rispetto al Giulianova, sa gestire meglio le situazioni, devo fare i complimenti alla squadra bianco-rossa. Si riferiva forse anche un po' alla catena degli infortuni e a quant'altro. Sei d'accordo? Sono d'accordo per adesso. Vabbè, fai gli scongiuri però. Li ho fatti, già li ho fatti. No, 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 ringrazio Delzotti, ma dietro c'è un lavoro importante da parte di tutto lo staff, da parte di tutti i giocatori. Se i ragazzi stanno bene fisicamente non è solo merito nostro, ma è anche merito loro che fanno una vita sana. Ci tengono a Teramo, ci tengono e vogliono sfruttare questa opportunità perché, come dico sempre ai ragazzi, è un'opportunità che difficilmente ci capiterà in futuro, soprattutto sottoscritto ai ragazzi, quindi la dobbiamo sfruttare al meglio. Stiamo facendola bene, però non dobbiamo mollare. Come giudica le prove di Vanzan e Santi Rocco che sono partiti dal primo minuto? Hanno fatto bene, sinceramente potevano fare meglio, ma come del resto pure tutta la squadra, però è normale che la condizione loro fisica non è ottimale, soprattutto quella di Nicola Vanzan, che secondo me sta ancora al 40-50%, un giocatore che in questa categoria può fare la differenza, però oggi le ho voluti mettere in campo dall'inizio, anche perché pensando alle tre partite settimanali era anche giusto dargli importanza perché da qui alla fine per vincere questo campionato ci ho bisogno del gruppo, non del singolo e devo far sentire tutti quanti importanti.